Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla satale 268 del Vesuvio, sino al 20 giugno, attiva uno scambio di careggiata tra le uscite Palma Campania e Poggio Marino San Giuseppe Vesuviano Sud verso Angri. Nella stessa direzione è chiuso anche lo svincolo d'uscita Palma Campania. Sulla tangenziale di Salerno, sino al 20 giugno, per lavori attiva la riduzione di careggiata tra le uscite Salabagnano e Fratte in direzione Fratte. Da domani riparte il servizio collegamento su Goma Eav tra il quartiere Vomero e la zona balneare di Miseno con otto corse giornaliere. Dettagli al sito www.muoversi.regione.campania.it Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza Servizio a cura di Acamir e Regione Campania